E' allarme nel Baianese per la notizia di due presunti tentativi di rapimento nei confronti di altrettante ragazzine da parte di un uomo di colore di circa 25 anni, alto 1,80m, snello e con i capelli rasati. Ma si tratta di una bufala smentita seccamente dalle forze dell'ordine che rischia di generare una pericolosa psicosi. La notizia nelle ultime ore continua a rimbalzare sul web, rilanciata da portali e account personali, ma arriva la smentita dei carabinieri che precisano come nessuna denuncia sia mai arrivata in caserma a Baiano. Intanto la storia ora dopo ora ha continuato ad arricchirsi di nuovi ed inquietanti particolari. Nel mirino del presunto rapitore sarebbe finita anche una seconda ragazzina. Fra bufale e vere segnalazioni il caso dei tentativi di sequestro di ragazzine insomma continuerebbe a moltiplicarsi, crescere e viaggiare. Quelle che continuano invece ad arrivare concretamente in caserma sono telefonate e avvertimenti, segnalazioni e richieste di verifica per situazioni presuntamente sospette, proprio in base all'allarmismo scatenato dalla falsa notizia. Insomma si tratterebbe solo di episodi che sembrano essere autentico frutto di pericolose fantasie. Alcuni casi sono stati già trattati da organi di informazione ma gli investigatori predicano nello stesso tempo molta cautela. Il timore è che allarmismi ingiustificati possono condurre anche a pericolosi equivoci che rischierebbero di generare anche situazioni di pericolo dovute proprio al sospetto, paura e psicosi. Stesso caso pochi giorni fa. Stavolta la paura si era scatenata tra i non più giovani a Grotta Minarda. Aveva fatto infatti in poche ore il giro del web, la notizia risultata poi senza fondamento, di una coppia di scaltri complici, uomo e donna, che avrebbero prima avvicinato un'anziana per poi scipparla della collana. Anche in questo caso secca la smentita dei carabinieri. E poi era successo negli scorsi mesi con la cliccatissima bufala dei clown assassini o rapitori, che ha raggiunto gradi di psicosi collettiva davvero inquietante.